È un argomento sempre attuale, purtroppo, quello della violenza sulle donne, con abusi spesso vissuti proprio tra le mura domestiche. I motivi sono i più diversi e non è facile per una donna, spesso con figli, ripartire psicologicamente e nella vita pratica di tutti i giorni. L'opera Don Calabria da qualche anno è attiva in questo ambito, a fianco di chi è ricevuto e riceve violenza, grazie ad alcuni centri tra città e provincia. L'apertura della prima casa rifugio risale al 2018 e attualmente i servizi dedicati alle donne sono due case rifugio, la casa rifugio est-veronese che ha come ente promotora il comune di San Bonifacio e la più recente casa rifugio ovest-veronese che ha come ente pubblico l'ASL dell'area ex 22 e sono le due case dedicate all'accoglienza per le donne vittime di violenza. Abbiamo poi il centro antiviolenza Legnago Donna, dove l'ente promotore è appunto il comune di Legnago. Poi ci sono la casa accoglienza Mamma Bambino, chiamata Artemisia, la casa accoglienza Donne a Mantova e tutti questi servizi in modo trasversale si occupano di problematiche legate alle donne, avendo come sfondo lo spirito di accoglienza del Don Calabria. In questo periodo la situazione è abbastanza stabile con le case di accoglienza a pieno regime. Le situazioni legate alla violenza sono spesso legate alla violenza fisica perché portare alla luce le altre forme di violenza è più complicato e soprattutto nei casi in cui ci sono dei bambini piccoli da tutelare, spesse volte queste sono d'aiuto alle donne a trovare la forza di chiedere aiuto. È importante l'attività che continua a fare il centro antiviolenza Legnago per accogliere le richieste di aiuto, una quarantina anche quest'anno e tanti altri servizi. Ed è un centro che organizza eventi proprio per sensibilizzare la cittadinanza. Ad esempio il 28 di novembre, il pomeriggio alle 17.15 in sala civica Legnago, proponiamo alla popolazione un reading letterario e musicale dove verrà affrontato appunto il tema della violenza attraverso la lettura di alcuni brani importanti accompagnati da un gruppo musicale.